Il segreto per un buon data center è scegliere le soluzioni giuste, scegliere gli interlocutori giusti, il marchio giusto e avere gli attori giusti per la creazione di un sistema unico e non di tanti singoli elementi che compongono un data center. La visione unica di soluzioni e prodotti, consulenza e progettazione è il segreto secondo me per avere un data center moderno, agile, veloce ed efficiente.